Scopriamo le creazioni in resina Scopriamo le creazioni in resina di due settimane fa Voi ve la ricordavate? No perché io fino a due giorni fa non me la ricordavo più Finché non l'ho trovata appunto che si stava seccando Seccando è una parola grossa perché l'ho fatta due settimane fa E sembra di toccare del fimo Anzi del fimo abbastanza morbido Devo comunque liberare questo povero stampo Quindi con le unghiette andiamo Oh mamma mia Alla faccia proprio Perché la resina gialla Mi fa questa cosa Sempre con pigmenti diversi Tra parentesi Ma che schifo Ma che è sta roba No ma non andrà buttata via la creazione No no è solo un'impressione Eh santa madre Perché non viene via Bella ragazzi veramente bella Non ho parole sarebbe stata pure carina Ma vaffanbrodo vabbè lasciamo perdere Poi ho riprovato a fare il cuoricino Mi è venuto un colore orribile Che due scatole mi cambiano sempre i colori E comunque ho tolto Vi ricordate che c'erano quei pezzi di silicone Che sbordavano fuori di brutto olio accorciati Li ho tagliati con le forbicine Quindi vediamo se questa volta mi è venuto meglio Speriamo perché questo stampo in teoria è molto carino Qui devo togliere questa roba in eccesso Vabbè poi lo farò Lo uso per toglierlo Et voilà Non lo so Non mi piace No questo stampo era bellissimo Usato dai double creation Se non sbaglio Ma questo qui fa schifo Non lo so Si vede che l'hanno comparto da un'altra parte L'era fatto meglio Non mi piace Cioè per quanto io l'abbia fatto andare in tutti i buchi È proprio fatto così Non lo so Le rose hanno i petali troppo troppo sottili Sembra Non lo so Sembra un corallo marino Che non c'entra niente con i fiori E quindi no Niente da fare Questo non mi piace Poi c'è questo stampo Che mi era stato regalato Da una ragazza dolcissima Il problema è che è duro Quindi Devo riuscire in qualche modo A tirarlo fuori Però questa forma del cuoricino Mi piace troppo Fortunatamente la parte bianca Era ancora minimamente morbida Quindi sono riuscita a tirarlo fuori E wuhuu E insomma Ma perché Allora Gli sticker Quelli un po' cicciottelli Si spostano Continuamente Non avete idea Di quante volte Io abbia spostato Questi due sticker Comunque volevo farvi vedere L'effetto sotto E ho fatto un esperimento Con i pigmenti E devo dire Che l'effetto è abbastanza carino Ma se fatto con più colori Secondo me viene una cosa Veramente molto bella E quindi niente Ora che ho visto Che non è venuto malissimo Proverò di nuovo Niente Volevo togliermi lo sfizio Di togliere quella Quella dallo stampo Anche se quelle con gli sticker Di solito Le tolgo alla fine Ora continuiamo Con quelle semplici Che sono ben poche In realtà Ma insomma Avevo paura Che si indurisse Quello stampo La resina nello stampo E dopo non sarei più riuscita A tirarlo fuori Ce la posso fare A tirarlo fuori il castello Wow Ok da dietro Il colore fa abbastanza schifo Da davanti invece È molto più bello No aspetta La fotocamera sembra uguale Dal vivo è molto più scuro Il viola Ed è pieno 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 di brillantini È molto lucido anche Molto carino Molto carino Mi piace Poi ho rifatto le chiavi Volevo farla In stile Sailor Pluto Ma non ho modo Di colorarla Di argento metallizzato E farla grigia Mi fa un po' schifo Quindi ho fatta Una rosa Niente di che E queste due d'oro Questa qui Oddio d'oro È una parola grossa Beh devo dire che Avevo provato a mischiare Vari colori Per riscurire un po' l'oro E da dietro Pensavo di non esserci riuscita Visto che questo pigmento È molto potente Da davanti invece Sembra quasi bronzo Ed è molto carino Per una chiave Devo dire Molto molto carino Mi piace Penso che proverò a colorare Questo cuoricino Magari di Bordeaux Che sta molto bene Con l'oro Può sembrare molto carino Sì 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 E poi anche questo È dello stesso colore Piccina Qua ci sono dei dettagli Da togliere Carina carina Poi allora Constatato che questo Mi va bene E ringrazio la ragazza Che ha mirato Della ritardata Perché non mi Perché miro misurata Il braccio così Grazie tesoro Lo so anch'io Che c'è la gomma Però Anche togliendo Questo mezzo centimetro Sembrava molto piccolo Infatti una volta Secco Questo qua ce l'ho ancora qui Faccio molta fatica A metterlo Comunque va bene Grazie La gente è sempre molto simpatica Ho provato ad usare Un metodo Di Maria Carla Adesso vi lascio Se mai il link Di questo tutorial Nell'info box Volevo cercare Di non farvi vedere bene Come era dentro Anche se non è niente di che Comunque adesso Lo tiro fuori E vi faccio vedere Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ah sto diventando matta Ce la posso fare Meno male Che di silicone Quelli di plastica Non so davvero Come si usino Cioè non ha senso E meh Oddio è venuto malissimo Allora Sarebbe carina l'idea Se non fosse Che il decotape Era troppo corto In teoria Il decotape Doveva coprire tutto E non è giusto Io ho sempre Gli stampi diversi Da come mi aspetto E niente Se fosse venuto Qui è brutto lo stesso Vabbè Se fosse venuto Tipo così Magari sarebbe anche Stato carino Ma ok E tra l'altro Non avevo decotape Decenti Gli ho finiti tutti Mi sa quelli carini Ne ho cercato qualcuno Non sono niente di che Vabbè Riproverò E il problema È che se anche riprovo Riempendolo di meno Dopo diventa Non è bello Pare bombato Al centro Diventa tipo Bombato Qua sopra E non al centro Insomma Non so se mi avete capito Però andrà qua sopra Da limare Tipo tantissimo Vabbè Ma non credo Che lo userò Comunque è molto carina La forma Forse è da fare In color uniformi Non so Comunque ne sto anche Aspettando un altro Speriamo che sia meglio Poi passiamo A questo stampo Allora ho fatto Questo cuoricino Mi sa che Questo cuoricino Qua in alto Non l'ho mai usato Ho sempre usato Questo che è un po' Più rotondino Ma invece la forma È molto carina Oh che bellino Mi piace Sì lo so Stranamente Ho fatto una creazione Di Sailor Moon E ho già tutti i brillantini Sulle dita Mi piace molto Oddio Dalla fotocamera Sembra che ci siano Di brillantini gialli In realtà Io non ho messo Brillantini gialli Io li avevo messi Solo bianchi Ma ok Sono comunque Abbinati con la spilla Quindi mi piace molto Ecco Questo è uno sticker Di carta Non di quelli ciccioni Quindi non si è mai Spostato Ecco la differenza Tra gli sticker cicciottini E quelli di carta Ragazzi Me lo chiedete spesso Niente Questo era Un cuoricino di scarto Niente di esaltante Però è piccino Com'è piccolo Poi Non mi ricordo Cosa ci ho messo Qui che bello Ah sì Carino Dai Niente di che È molto molto semplice La creazione con Aurora E niente Allo sfondo rosa Con i brillantini Dovevano essere Tipo un po' Un po' Rosa E un po' Bianchi Ma lo sticker Essendo di quelli cicciotti Si spostava E mi spostava I brillantini Che bello Infine Questo Questo potevo anche Lasciarci lo sfondo Trasparente Forse era anche più carino No dai Carino Forse se non avessi Lasciato lo sfondo Cioè Se avessi lasciato Lo sfondo trasparente Sarebbe stato Meno visibile Più trasparente Appunto lo sticker Carino Carino Sempre gli sticker Che mi aveva mandato Papiri e Craft L'avevo già fatto Una cosa del genere Mi era venuto anche malissimo Però devo dire che questa volta Mi piace di più Poi rimangono questi due Guardate che peccato Io Quando uso Gli stampi Dopo che ho colato la resina Uso quegli accendini Quelli da cucina Lunghissimi Apposta per togliere le bolle E funziona da Dio Devo dire Se li usate State attenti Però così facendolo Ho esagerato Qui ho tipo Sciolto mezzo stampo Quindi Con questo stampo Quello sopra Penso che non lo userò più Allora Chi avevo messo qui Ah si 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 mi ricordo Vediamo di tirare fuori Quest'altro Questi stampi Stanno diventando Sempre più difficili Da usare Non lo so Perché si fa una fatica Immensa Oddio come morbido Cos'è sta storia Gli altri non erano così morbidi Voilà Dai carino E con Sakura Aiuto si vede poco Però in teoria Ho messo Brillantini rosa qui Brillantini rosa qui E negli altri Tutti negli altri posti Che non mette a fuoco Brillantini bianchi Ecco così si dovrebbe vedere Si vede un po' poco Questo sticker È un peccato Però è molto carino Fortunatamente ho messo Uno sfondo molto chiaro Altrimenti non si sarebbe visto Infine c'è questo Che alla fine L'avevo comprato per gli squishy Perché è grande Ma lo sto usando Sempre per la resina Perché mi trovo bene Con gli sticker grandi E con le immagini grandi Questo sono sicura Che piacerà a molti di voi Perché Adesso ve lo spiego Prima lo tiro fuori Speriamo che sia venuto bene Piuttosto Tadà Bello Sì 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 Allora Allora So che piacerà a molti di voi Perché quando ho fatto vedere Le mie coranine nerd Ho visto che moltissimi di voi Sono fan di Pretty Little Liars E tra parentesi Dopo che ho fatto quel video Me ne avete parlato molto Nei commenti Mi è venuta voglia di riguardarlo Infatti lo sto riguardando Piano piano Allora E queste sono appunto Le protagoniste Aria, Emilianna e Spencer Povera Spencer Per farla stare nella stellina Ho dovuto deformarle il corpo Vabbè è quella che mi piace di meno Quindi ci può stare Anche qui ho tagliato il braccio ad aria Perché in teoria non ci stava In pratica ho preso molto male le misure Però nonostante questo Devo dire che mi piace Lo sfondo è tutto bianco Lo sfondo è tutto bianco con i brillantini Si vede Ci sono tanti 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 brillantini Anche qua sotto E devo dire che mi piace molto E non so bene cosa me ne farò Perché è molto grande Se fosse più grande Lo attaccherei al muro Giuro Adesso devo trovare uno stampo enorme Per fare un esperimento Se lo trovo ve lo farò vedere Comunque niente Eccolo qui È molto semplice Però mi piace molto Voi sapete che la mia fotocamera Mi odia tantissimo Quindi naturalmente Si è spenta e scaricata la batteria E quindi ho evitato di aspettare Solo per dirvi Bene Spero che queste creazioni Vi siano piaciute Mi raccomando Fatemi sapere qual è la vostra preferita Nei commenti Spero che vi piacciono In caso lasciate un like Mi fareste un grande favore La mia preferita È quella con la spilla Di Sailor Moon piccolina Che mi sembra che sia venuta molto bene Spero che il video Comunque appunto Vi sia piaciuto Come ho detto prima E noi ci vediamo al prossimo video Ciao